Amici miei, buongiornissimo, ho appena finito di mettere giù gli ultimi tubi per l'impianto di irrigazione. Sì, sono scesi 250 mm di pioggia, non mi bastavano, loro ho deciso di installare tutto l'impianto. No, sta arrivando il caldo e quindi avere un impianto che funzioni, soprattutto che mi faccia risparmiare tempo, non portare tubi a destra e a sinistra di qua, di là, di su, di giù, è fondamentale. Ma tralasciando tutto ciò ti voglio parlare della start-up di PlasticAlpha. Cioè una start-up che ha iniziato a produrre biostimolanti, biostimolanti a base di alga. Una sperimentazione da alcuni anni fino ad arrivare a un prodotto, un prodotto finale. Un prodotto che sto testando nella mia azienda in alcune parcelle di prova e sto vedendo, sto ottenendo dei risultati veramente incredibili. Direi di spostarci direttamente al risultato e farti vedere tutto e dopo nel corso del video ti spiego un po' come lo sto utilizzando nell'azienda, i risultati che sto vedendo, a cosa serve, a cosa non serve e tutte queste cose qua. Beh, seguimi che ti faccio vedere il tutto. Ed ecco qui il risultato, proda trattata, proda non trattata. Faccio subito una premessa, pacciamatura bianca, pacciamatura nera. Sono due colori che non vanno a influire sulla crescita della pianta. Perché questo? Perché lo stesso test con tutta la pacciamatura bianca l'ho fatto in serra. Sempre sulla pianta di pomodoro, quindi una sola nacea. E c'è una differenza di vigoria, una differenza di crescita in altezza, una grande differenza anche di produzione, di allegagione, di fiori. Te la faccio vedere dopo. Quindi abbiamo queste due prode. Questa qua non trattata, questa proda qua trattata. Come puoi vedere già ad occhio nudo ci sono due differenze. Il colore, colore molto più scuro rispetto a questo. In questo caso sembra la pianta in carenza di alcuni elementi nutritivi. La vedi che sembra debole. Infatti è molto più contenuta, molta meno vigoria. Ci sono più o meno 5-6 cm di differenza di altezza rispetto a questa. Questa qua è una pianta totalmente uguale, stessa varietà. San Marzano, pianta di pomodoro determinata. Quindi non serve il tutore, fa un bel cespuglio. Dopo saranno tutti i pomodori da sugo. Queste piantine qua sono totalmente diverse. Hanno un cespuglio molto più grosso. Puoi vederlo qua. Vedi, ci sono piante molto molto più vigorose. Hanno delle foglie totalmente più grandi. Hanno delle foglie più scure con un colore più acceso. E si vede che la pianta è molto più in salute. Mi sono avvicinato in modo da mostrarti tutto in modo migliore. Beh, guarda subito la pianta trattata. Guarda che volume, che quantità di femminelle impressionante che ha. Sta iniziando a fare anche i palchi di fiori. C'è proprio, è un vero, proprio cespuglio. Però, ok, bellissime queste piante. Hanno un colore fantastico. E tu sarai dicendo, sì, ma la produzione? Beh, ci spostiamo direttamente in serra dove andiamo a vedere come, con questo trattamento qua, oltre alla pianta ad essere più grande, avere una vigoria maggiore, ha dei palchi veramente enormi. Cioè, sono spropositati. Una legagione fantastica, perita di fiori bassissima. Quindi, direi che ci spostiamo direttamente e andiamo a vedere il tutto. Ed eccomi qua, mi sono spostato all'interno della serra dove ti voglio mostrare il risultato di queste due prode trattate e la proda di là, quindi la terza, dove non ho fatto nessun trattamento sulle piante con questo biostimolante. Ma prima di continuare il tuo discorso, ti faccio a vedere questo biostimolante perché lo so che sei curioso. Sì, è proprio lui il biostimolante di cui ti stavo parlando. Biostimolante prodotto dalla start-up di Plastic Alpha si chiama Alga Spring. Biostimolante totalmente naturale, a base di micro alghe e macro alghe. Una cosa che mi piace tantissimo è che sono coltivate in dei fotobioreattori, quindi all'interno di strutture non raccolte dal mare, raccolte da dei laghi, raccolte da dei bacini d'acqua, dove le alghe possono essere contaminate da agenti esterni. Contaminate, contaminando il biostimolante, andiamo a contaminare anche le nostre piante. Quindi dei lunghi tubi trasparenti, dove le alghe possono svilupparsi. Tutti questi tubi sono protetti da delle serre, abbiamo una temperatura controllata, l'acqua viene sempre pulita, filtrata, abbiamo un sistema chiuso e totalmente controllato. Tutto questo mega impianto qua permette di produrre delle alghe totalmente controllate e soprattutto totalmente prive da fenomeni che potrebbero andare a contaminare, contaminando anche le nostre produzioni. Un biostimolante che va a lavorare benissimo a contatto fogliare, quindi non andiamo a utilizzarlo per la fertilizzazione, ma andiamo a utilizzarlo nei trattamenti fogliari. Consigliato da utilizzare da solo, quindi non mescolato magari con il rame, con lo zolfo, ma andiamo a fare un trattamento da solo, in modo che può agire da solo. Ma tornando al discorso di cosa può portare alla mia coltivazione, lo puoi vedere da te ad occhio nudo. Spero inoltre che la videocamera non distorga troppo quello che è la realtà che sto vedendo io con i miei occhi. Beh, prima cosa che vedete, un'altezza nettamente superiore. E il trappianto è stato fatto nello stesso giorno, ha avuto la stessa consumazione, ha avuto la stessa irrigazione. C'è proprio una crescita totalmente diversa. Questa varietà di pomodoro è uguale alla varietà che si trova di là. E ci sono delle differenze molto, molto grandi. Come prima, quello che vi stavo dicendo, il colore, l'allegagione dei fiori, la quantità di produzione. Qui invece parliamo con un'altra varietà, la varietà di datterino, una pianta che è cresciuta veramente tantissimo. Solitamente abbiamo un'altezza pressoché uguale, invece questa qua è cresciuta di moltissimo. ha un apparato di fiori che è un qualcosa di incredibile. Palchi composti da 15-20 fiori. Non ne sta accadendo neanche uno e tutti vanno in allegagione. Questo qua è un grandissimo fattore perché mi fa aumentare la produzione. Il trattamento lo vado a fare all'incirca ogni 7 giorni, quindi una volta a settimana, e mi permette di tenere tutto un mantenimento perfetto della mia pianta. Premessa, un biostimolante non va a rimuovere la consumazione che va fatta radicalmente, ma è un aiuto che noi diamo alla pianta durante tutto il suo ciclo vitale per tenersi in forma, per dargli un mantenimento e tenerla soprattutto in salute. Tutto quello che gli vado a dare sono prodotti naturali, come ti stavo dicendo prima. Quindi non è niente di chimico, ma sono delle semplici alghe che vengono date alla nostra pianta. Le alghe sono uno dei migliori biostimolanti naturali, che anzi, se non è il migliore biostimolante naturale che possiamo dare alle piante. I risultati li potete vedere proprio da voi. Mi sono addentrato ancora di più all'interno della foresta. Varietà uguale a quella di sinistra e come puoi vedere il colore è diverso, la legagione dei frutti è totalmente diversa, ci sono veramente dei risultati. Queste siepi invece di datterini sono qualcosa di pazzesco. Parliamo un attimo di dosaggi, cosa fondamentale perché andiamo ad utilizzare il prodotto in base al periodo della pianta. Abbiamo tre dosaggi, sono scritti qua, molto comodamente sul barattolo. Non dobbiamo andare a cercare in giro. Primo trattamento che possiamo fare è il 300 ml per ettolitro, quindi per 100 litri, per tutto quello che riguarda il trapianto e il mantenimento. Quindi la pianta è bella in salute, posso dare 300 ml di prodotto per ettolitro. Abbiamo appena fatto il trapianto, oppure siamo in pre-trapianto, abbiamo ancora le piante di semenzaio, facciamo un trattamento molto molto basso. Iniziamo ad aumentare un pochino, andiamo con le 600 ml per ettolitro, quindi più di mezzo barattolo da litro. Dopodiché ovviamente i formati sono da litro, 5 litri e 20 litri, se non erro. 600 ml per andare ad incrementare la produzione, per dargli una colorazione al frutto in modo più svelto, diamo un aiuto alla pianta a dargli questa colorazione al frutto, e dopodiché per aumentare anche la pezzatura. Perché se non gli diamo un boost e manteniamo in salute la pianta, gli diamo tutto quello che gli serve, naturalmente il frutto sarà più grande. Ultimo dosaggio che possiamo utilizzare per le nostre coltivazioni sono 1000 ml, quindi un litro di prodotto, per 100 litri di acqua. Una dose veramente molto molto carica, una dose fondamentale per far uscire la pianta dai periodi stress. troppa acqua, temperature squilibrate, caldo, freddo, oppure tantissime altre cose, troppo caldo, siccità, periodo di stress, vediamo la pianta soffrire, gli diamo un aiuto in più. Andiamo ad aumentare la dose e cerchiamo di farla ripartire. Fondamentale questa dose qua, perché mi ha permesso di far uscire le mie piante da un periodo dove qui in Veneto ha fatto abbastanza freddo, una temperatura molto bassa, nonostante fossero tutte in serra queste piante e soprattutto tanta troppa acqua. Stress radicali, marciumi radicali, un disastro, veramente un disastro, ristagno idrico. Grazie a questo prodotto qua, trattamenti costanti, ravvicinati a 5 giorni, non a 7, sono riuscito ad ottenere un pomodoro a due mesi di stanza, anzi un mese e 20 giorni, alto all'incirca sul metro 80. Quindi non direi non male. E una cosa ancora più importante, iniziano ad arrivare i primi pomodori. Questo qua è il primo pomodoro che è maturato e batterino, non troppo grande, però come test qualitativo ci siamo. Io con questo qua ti saluto, ti lascio tutti i prodotti qui sotto in descrizione, ti lascio proprio il link del sito. Noi ci vediamo di un nuovissimo video, fammi sapere la tua qui sotto nei commenti e ciao a tutti!